La Croce Azzura di Cadorago ha ricevuto ieri la prima ambulanza anti-infettivi allestita in Italia. La cerimonia per rispetto delle norme di sicurezza si è svolta in forma privata con la partecipazione tra gli altri del virologo Fabrizio Pregliasco, del sottosegretario della Regione Fabrizio Turba e del sindaco Paolo Clerici. Il mezzo è innovativo e dispone di un vano sanitario tecnicamente a pressione negativa che riduce il rischio contaminazione tra pazienti affetti da Covid-19 e altre infezioni e operatori sanitari. L'ambulanza è costata 112.000 euro, 42.000 dei quali sono stati donati dalla famiglia Novarese e della Sati Group di Appiano Gentile. L'importo è parte del contributo di un milione di euro che la famiglia Novarese ha deciso di stanziare in diversi capitoli nella lotta al coronavirus. I volontari di Cadorago e della Croce Azzurra, guidata dal presidente Stefano Clerici, impegnati fin da subito nel contrastare l'emergenza a livello locale e regionale, sono i primi in Italia a poter operare con un nuovo mezzo, allestito a tempi di record, con caratteristiche innovative e inedite. Frutto di una sinergia tra Croce Azzurra e Cadorago, aziende e cittadinanza, l'ambulanza è progettata per offrire un vano sanitario ad ambiente privo di saturazione batteriologica contro la diffusione dei virus, specialmente nelle fasi di trasporto di pazienti, potenzialmente infettivi e con alto rischio di contagio.